Albano una confessione davvero inattesa l'ho dovuto fare. Albano ha fatto una confessione che molto probabilmente si sarebbero aspettati in pochi. Ma che cosa ha detto? Ecco i dettagli. Albano è senza alcun dubbio un personaggio che è sempre cmq sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Sembra davvero che l'attenzione su di lui non cali mai. Ed è per questo che quando il cantante fa una confessione questa non può certo passare inosservata e lasciare indifferenti. Ma che cosa ha detto questa volta? Le sue parole sono state davvero sorprendenti e hanno colpito tutti. Ed è per questo che è giusto analizzarle nello specifico e nel dettaglio. Albano, le parole che nessuno si sarebbe aspettato d'altronde è cosa nota che il nativo di Cellino San Marco non abbia mai avuto peli sulla lingua essendo stato sempre molto schietto e sincero. Ed ecco che, dopo la sua esperienza di qualche giorno fa in quel di verissimo ha colpito per alcune parole dette a l'intervista il talk show ideato e condotto da Maurizio Costanzo. Le sue dichiarazioni hanno, in un certo senso preoccupato tutti i suoi fan, ma che cosa ha detto, in pochi forse se lo sarebbero aspettato, in passato ho assunto degli psicofarmaci. Questa la frase detta da Albano. Senza troppi giri di parole, l'artista ancora una volta non ha voluto nascondere le sue debolezze e i problemi che hanno caratterizzato la sua appassionante vita. Un qualcosa che l'ha reso un personaggio molto amato e stimato per la sua sincerità. I suoi fan d'altronde gli sono sempre stati vicini anche nei momenti più difficili e complicati. Lui non si è mai arreso e ha lottato facendo quello che più gli piace, cantare e fare musica.